Bentornati al Festival Bar 2004! Questo è quello che si vede e si rivede quando siamo sul palco! Io direi che è veramente estate, il duo che è sul palco in questo momento arriva da un paese dove è estate praticamente per tutto l'anno perché c'è sole, colori, musica, divertimento vengono dal Brasile e sappiamo che il Brasile insomma ci racconta e ci porta sempre della bella musica e loro sono un po' caleidoscopici con você e minha pareceu, il caleidoscopio! Grazie! 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 Vabbè! Vabbè! Vabbè è Re difficile! Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 Ciao, aspetta Ciao Eh no, devi soffiare, Irene Eccola qua, come in un cartone animato Che bello